Appuntamento fissato, si terrà a Palazzo Chigi alle 15.30 del 2 settembre con il coordinamento della Presidenza del Consiglio, il vertice per la situazione dell'indotto appalto del siderurgico Arcelor Mittal, che avanza da mesi la pagamento delle fatture scadute relative a lavori e forniture. L'incontro vedrà la presenza dei sottosegretari alla Presidenza del Consiglio, Mario Turco, e del Ministero dello Sviluppo Economico, Alessandra Todde, dell'amministratore delegato di Arcelor Mittal, Lucia Morselli, dei Presidenti di Camera di Commercio con Findussi e con Fabi Taranto, del prefetto di Taranto Demetrio Martino e del consigliere per il Sud della Presidenza del Consiglio, Gerardo Capozza. Non ci saranno i sindacati metalmeccanici e confederali. Lo annuncia all'Agi Mario Turco, sottosegretario della Presidenza con delega alla programmazione economica, investito dalle imprese e dalle associazioni di categoria della crisi che attraversano da molti mesi con Arcelor. L'incontro è organizzato in presenza, spiega Turco, ma chi non potrà essere presente a Palazzo Chigi si collegherà in remoto. La colla del 2 settembre è quella che avrebbe dovuto tenersi il 10 agosto, poi annullata perché la di Morselli non era presente e il Governo, attraverso i sottosegretari, ritiene che la problematica indotto a palto siderurgico sia ormai giunta ad un punto di criticità tale da esigere non più incontri interlocutori, come è avvenuto sinora, anche per ammissione di Confindustria Taranto, ma di impegni certi da parte di Arcelor Mittal. Non è nuovo il problema dell'indotto a palto non pagato. Già a novembre scorso ci fu un altro importante caso con i trasportatori e gli imprenditori che per una decina di giorni presidiarono la portineria C dello stabilimento e andarono anche in delegazione al Mise per incontrare il ministro Patuanelli. Nelle ultime coll con Confindustria Taranto, Arcelor Mittal con il direttore delle risorse umane Arturo Ferrucci ha dato notizia di alcuni pagamenti fatti, ma per le imprese si tratta di cifre piccole rispetto allo scaduto che solo per le associate di Confindustria è di circa 38 milioni di euro.